Giro di vite della Guardia di Finanza di Pescara, che nelle settimane centrali di agosto si è concentrata in particolare sulla lotta alla contraffazione. Sequestrati 130.000 articoli, peraltro non sicuri, che avrebbero fruttato, una volta immessi sul mercato, profitti illeciti per 52.000 euro. Nel mirino in particolare è finita l'attività di un sodalizio formato da cittadini di nazionalità cinese impegnati nelle diverse fasi del commercio illegale, dalla distribuzione sul territorio nazionale alla rivendita al dettaglio nella provincia di Pescara. Da qui è scaturito il sequestro di 120.000 articoli di bigiotteria non conforme, senza alcuna certificazione sulle percentuali di presenza di materiale potenzialmente nocivo come cadmio, nickel e piombo. Nonché più di 11.000 carte da gioco Pokémon contraffatte, molto in voga tra i giovani e i collezionisti appassionati che le acquistano, in genere, come investimento da far fruttare con ampi guadagni sul mercato internazionale. Le carte più rare infatti raggiungono valori che vanno da decine di migliaia fino a milioni di euro e se una carta falsa venisse immessa nel commercio da collezionismo, fanno sapere le fiamme gialle, diventerebbe sicuramente oggetto di truffa. Si tratta di uno dei risultati del piano d'azione denominato Stop Fake, col quale la Guardia di Finanza di Pescara ha risalito la filiera illecita della contraffazione dal territorio abruzzese a quello laziale. Con l'avvento delle nuove frontiere tecnologiche, dichiara il comandante provinciale delle fiamme gialle di Pescara, Antonio Caputo, i rischi di cedere, vendere o scambiare un falso dal valore di pochi centesimi di euro come un pezzo raro e costoso sono decuplicati. Per questo il presidio del corpo si estende anche al mondo del virtuale e del commercio elettronico.